La notizia ci arriva dall'India, lascia veramente male perché senti queste cose solo dall'India poi arrivano tutte queste notizie brutte. Praticamente una donna con sua amante sono stati accusati dagli anziani del villaggio, le hanno praticamente presi, hanno rasati, hanno picchiati e hanno costretto lei ad allattare il suo amante, per rendere conto ragazzi, lei 24, lui 20 anni mi sembra. Poi è andata a guardare la notizia come è stata finita, non l'avete mandata, ho lettato solo il titolo, comunque tutte dall'India arrivano, non vorrei dire, quella con dubui, il bambino con dubui, questa comunque lascia veramente l'amaro in bocca.